buongiorno amici buongiorno amiche ecco un nuovo dongle android auto wireless che siamo pronti a testare lo trovate su amazon lo trovate anche su aliexpress è un dongle molto diffuso vi anticipo che secondo me lui è il dongle che abbiamo chiamato su altri video fulmine sotto forme diverse perché ha un funzionamento molto simile all'ip per fare gli aggiornamenti firmware che è lo stesso e quindi secondo me cambia solo la la forma ma come lui funziona e funziona bene nel bilo precedente abbiamo provato questo dongle che come vi ho detto secondo me è il migliore sul mercato ma costa una cinquantina di euro e ha una forma che nella mia auto va bene ma in altre auto potrebbe essere ostica invece questo qui ha una forma che può essere più malleabile più adattabile ad altre ad altre automobili entrambi funzionano bene forse lui è leggermente più veloce ma veramente parliamo di di poca differenza entrambi funzionano bene entrambi vi collegano alla vostra autoradio come se fosse collegati via cavo in realtà siamo collegati via wireless con il mio samsung che ha android 14 quindi questi dongle non fanno altro che eliminare il cavo e collegarvi via wireless non hanno nessun'altra funzione non hanno play store non hanno nulla però quello che fanno è molto utile e lo fanno bene entrambi non scaldano entrambi io ve li consiglio valutate voi quale forma vi piace più valutate voi il prezzo io tra i due preferisco lui perché è più piccolino e leggermente più veloce ma anche lui se lo trovate su amazon a un buon prezzo compratelo perché funziona bene e perché ha gli aggiornamenti firmware vi metterò in descrizione il link per l'acquisto se avete domande fatele nel box dei commenti e ci vediamo presto ciao a tutti